Nella tarda mattinata la conferenza convocata dal sindaco Masci e dall'assessore cremonese per illustrare la nuova organizzazione del mercato della strada parco diventa l'occasione per replicare ma anche per fare precisazioni. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di liberare quella strada anche per la sicurezza degli stessi operatori che lavorano su quel mercato. Quindi noi siamo dispiaciuti, sicuramente questa amministrazione non ha voglia di creare problemi a coloro che lavorano nella nostra città ma ci sono degli obblighi. Quella non è una strada che è del Comune e noi la dobbiamo restituire a Tua che appunto lì sta finendo i lavori e dobbiamo garantire la sicurezza di tutti coloro che praticamente lavorano al mercato. Ma il Comune si è fatto trovare impreparato? No, non mi risulta. Sotto che aspetto? Non mi risulta. Il Comune ha agito per tempo. Abbiamo fatto, l'ho già comunicato agli organi di stampa, abbiamo fatto circa 20 riunioni con le associazioni di categoria, con gli operatori, con la maggioranza, con tutti quanti per trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili. I miei uffici hanno fatto circa 16 progetti per il mercato. Va sottolineato questo aspetto. Avevamo trovato anche una soluzione di mantenere il mercato tutto nello stesso posto, dietro il parcheggio delle Naidi, ma è stata una soluzione che non trovava la condivisione degli operatori. Per questa ragione abbiamo cercato di trovare degli spazi, in centro sono praticamente quasi impossibili, e si è arrivati allo spacchettamento del mercato A3, che è stato sottoposto e accettato dalle associazioni di categoria che sono venute qua, perché è l'unica strada percorribile. Cremonese prova a essere rassicurante, glissa sulla raccolta di firme tra i commercianti per un ricorso al TAR e stigmatizza il comportamento delle minoranze, in particolare del centro-sinistra. Oggi quello che mi fa specie è vedere protestare su quella strada anche l'opposizione, ma noi ci siamo degli atti portati avanti dalla giunta precedente, dalla giunta Alessandrini, che andavano nella direzione di far passare in quella strada la filovia. Quindi questo è un percorso che tutti i sindaci che sono stati nella nostra città hanno portato avanti. Oggi il sindaco Carlo Masci conclude questo percorso dopo 20 anni, perché si conclude con il sindaco Carlo Masci, ma questo è un percorso che dura da 20 anni, che hanno portato avanti tutti i sindaci. E noi non possiamo che prenderne atto di una situazione che si è creata.